Dopo il comune di San Bratello, a distanza di circa due settimane, c'è del terreno di una collina del comune di Caronia. La protezione civile, che ha subito dichiarato lo stato di allerta, ha fatto evacuare più di 100 persone. Il movimento franoso che sta investendo il paese di Caronia progete speditamente ad una velocità di circa 7-10 km all'ora. Interessante dalla frana sono le contrade Lineri e Ricchio, dove dalla mezzanotte di ieri sono state fatte evacuare 32 famiglie in un'area collinare di circa 50 ettari. Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli uomini delle forze dell'ordine e subito dopo sono arrivati i tecnici della protezione civile. La frana ha interessato anche alla scuola media di Lineri, che è stata immediatamente chiusa. Stiamo predisponendo un centro di coordinamento al comune, ha dichiarato il sindaco di Caronia Giuseppe Collura, e abbiamo attivato tutte le procedure previste in questi casi. Nella zona in passato un cedimento del terreno aveva travolto dei fabbricati. Nell'area dei Monti Nebrodi, con lo smottamento di Caronia, in poco più di due mesi si sono registrate circa 250 frane.